Siamo a Serra da Estrema, che è in 1.4, in 2.5. Esattamente, si è a 8.7 metri, la tua testa è a 2.000 metri. Sì! Oh, guarda! Così sarebbe Equo. Finalmente si fa qualche vlog serio, sensato, non com'è. Alban, senti. Sei ore di strada, se va bene. Io volevo mostrare il mio portafoglio. Che bello! Chi è quello cucciolo? Ma come faccio davvero? Io volevo mostrare i cuccioli in Mandelli. Sì. Abbiamo preso il formaggio, adesso lo mangiamo. Alban, fammi una faccia da formaggio. Eccoli qua, i nostri eroi. Non l'ho già fatto? Raga, questo è fatto. Ah, la sportiva. Peppero quindi? Sicuramente non di mucca. No, di capra. No, di pecora. No, di pecora. Peca, pecora. E' anche la cosa, era tutto di pecora. Come ti mangia questo spuntino? Alla belle meglio. Sono veramente morti di fame. Come si è andato? Ma dai, meglio delle altre giorni. Un po' due scelte però, alla fine, quelli con cui ero me la giocavo. Ehm... 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 Rita! Com'è andata? Rita! Ehm... 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 È stata una figata. Tutte le ore in bosco, le ore di riunione, le ore di percorso a secco. Le ore di percorso a secco... perché tutti gli elementi hanno comunque migliorato il nostro modo di fare l'infeeling e sia perché il trucco si è unito sempre bene e questo è una cosa bellissima e secondo me è la cosa più bella ognuno di noi è più o meno soddisfatto delle proprie gare ma sicuramente, sicuramente ognuno di noi ha fatto qualcosa di buono come l'ha stato per me poteva andare meglio, sì però è andata così e quindi torneremo prima o poi in Portogallo di nuovo e quindi questo è un arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti